Le 17 di questo mercoledì, primo luglio 2020, ragazzi siamo finalmente arrivati a quello che è l'ultimo mese di live per quanto riguarda questo 2020, questo inizio 2020 per iotech, poi ovviamente ad agosto ci sarà la solita pausa, quindi il solito periodo di stop per quanto riguarda una certa parte di iotech, quindi ovviamente ci saranno le puntate registrate per una settimana in più, perché mi prendo anche la prima settimana di settembre, ma vi preannuncio già che ci sarà una diretta un po' speciale di sabato, il primo sabato di settembre, che sarà sabato 5 e sarà un inizio, se vogliamo, di stagione un pochino diverso. In sostanza oggi facciamo quello che non abbiamo fatto settimana scorsa, settimana scorsa infatti è stata una puntata un po' strana, innanzitutto mi devo scusare, perché ho fatto una cappella camorosa, ovvero non mi sono ricordato poi di schiacciare un pulsantino e quindi non è andata poi la puntata sul feed, l'ho fatto lunedì, credo, no l'ho fatto domenica, ringrazio il buon Silvano che mi ha ricordato, o meglio mi ha detto che non c'era il feed, era solamente su Spreaker, banalmente il lunedì avendo fatto la diretta di The Final Countdown e quello è un podcast che rimarrà solo su Spreaker perché non ha senso farlo altrove e quindi non è andata, per cui se vi siete persi la prima parte poi di questo ragionamento la potete tranquillamente trovare sul feed di Spreaker ma anche su quello di Apple Music e di tutte le piattaforme, perché comunque poi appunto l'ho pubblicata per cui è dappertutto. Seconda parte di un ragionamento che si conclude, ovviamente poi l'analisi della WWDC non credo finisca con oggi, anzi in realtà ci sono un po' ripuntate che sto cercando magari di aggruppare per avere magari poi un unico mese in cui occuparci della WWDC perché va bene, ci sono state anche altre piccole grandi novità dal mondo della tecnologia, però quando Apple poi ti butta fuori il nuovo mondo, quindi la terza interazione se vogliamo dopo il mondo PowerPC, dopo il mondo Intel, adesso abbiamo finalmente il mondo di Apple Silicon e quindi c'è quello da ottimizzare anche se vogliamo come ragionamento. In realtà poi ci sono diverse forme in cui andare a parlare dell'evento di Apple perché è stato veramente un evento ricco, condensato, ma se vogliamo con piccole sfaccettature anche che stanno venendo fuori in questi giorni. C'è l'Apple Developer Transition Kit per cui tutto il mondo, se vogliamo, è legato anche poi alle piccole certezze che il mondo dell'internet tira sempre fuori. Vuoi perché ovviamente abbiamo da una parte il mondo legato al mondo appunto dei rumors e anche se Apple dice no, non ci sono bench, cioè non potete fare benchmark, abbiamo già praticamente tutti i risultati del mondo legato appunto ad Apple Silicon, o meglio al primo computer che poi non sarà un computer ma magari sarà un ragionamento che faremo in una delle prossime puntate. Oggi però parliamo ancora di WWDC in modo negativo e quindi sigla! E quindi, cosa non mi è piaciuta di questa WWDC? Tanto, nel senso che è stato un evento ricco, ma è stato un evento se vogliamo anche un po' soporifero da alcuni punti di vista. È un evento in cui Apple ha annunciato tante cose, ma altre in realtà le ha lasciate lì. Le ha fatto magari intendere qualcosa, ma non ha completato il cerchio. Ed è una Apple che, se vogliamo, nei vari ambiti, porta comunque un qualcosa che poi alla fine non amalgama. Ma è una promessa che Apple cerca di fare, promessa che poi non viene rispettata. Ed è qualcosa che onestamente mi è un pochino mancata durante questa WWDC. Perché se pensiamo ad un evento importante appunto come questo di marzo, cioè scusate, questo di giugno, non è l'evento di marzo, non è l'evento di settembre, non è l'evento neanche di ottobre. È comunque un evento molto importante perché è l'evento su cui poi si basa tutto. Appunto, Apple, nonostante abbia sicuramente in programma altri palcoscenici, ovviamente uno su tutti il più importante dell'anno, la WWDC è l'evento più importante per gli sviluppatori. Però ovviamente l'evento più mediaticamente importante è quello di settembre, l'evento in cui solitamente viene presentato l'iPhone. Poi ok, stiamo parlando di Apple, per cui se Tim Cook facesse un evento privato, tra virgolette, riprendendosi con l'iPhone sul sito Apple, avremmo gli articoloni non solo sulla stampa specializzata, ma anche ovviamente su tutta l'informazione generalista. Però comunque quando... Io mi ricordo, ad esempio, forse la presentazione dell'iPhone 5 o del 5S la trasmetteva in diretta SkyTG24, per cui comunque una mossa abbastanza interessante che coinvolge sicuramente un pubblico abbastanza vasto. Quello che in sostanza però non mi è piaciuto è stato il modo in cui hanno trattato diversi prodotti. Perché quest'anno è un anno abbastanza importante. Lo sentivo oggi nella puntata che è stata pubblicata settimana scorsa da Maurizio Natali che in compagnia di Giulio Brotini hanno fatto una chiacchierata decisamente interessante, devo ammettere. Ovviamente la trovate nell'ultima puntata del saggio podcast dove tra le altre cose si diceva assolutamente di un evento abbastanza stimolante che è quello dei dieci anni che solitamente è un qualcosa che Apple ciclicamente festeggia. Apple in un qualche modo con l'iPhone X ha rivoluzionato il suo prodotto di diamante, la sua punta di diamante, il suo prodotto di punta. Mi sarebbe piaciuto vedere in un palco importante la consapevolezza e la consacrazione di un altro prodotto che ultimamente sta facendo parlare di sé. E ovviamente mi sto riferendo ad iPad. iPad è stata una delusione. Ne ho parlato in maniera un pochino più approfondita ovviamente nella puntata di Unipad Guy di lunedì scorso. Ho cercato lì di fare un ragionamento un po' più completo ma in sostanza è una certa, se vogliamo, mi verrebbe da dire frenata da parte di Apple per questo prodotto perché l'anno scorso solitamente Apple avrebbe dovuto fare l'app e quest'anno il down perché ovviamente quando parli di Apple parli ovviamente di un ecosistema che per quanto riguarda iOS è sempre stato coeso, soprattutto iPhone e iPad sono stati due prodotti che solitamente hanno avuto un certo filo logico tra varie tipologie di prodotti e ovviamente quando parli poi di iPadOS presentato lo scorso anno solitamente io mi sarei aspettato qualcosa di più intrigante perché se Apple avesse solitamente cercato di portare un qualcosa di più se vogliamo standard quest'anno sarebbe stato l'anno del down per cui comunque un qualcosa e quindi uno scribble che comunque è un qualcosa di importante è comunque una novità abbastanza teoricamente interessante però da un'altra parte l'azienda ha cercato di imparare a conoscere se vogliamo il proprio pubblico e quindi ha detto l'anno scorso facciamo iPadOS almeno i cretini che amano l'iPad si iniziano ad avere qualcosa in realtà poi abbiamo avuto una grande promessa come dicevo prima con iOS 13.4 e poi la concretizzazione è che la Smart Keyboard, la Magic Keyboard rivoluzione per i dieci anni di iPad sul palco non si è visto anzi in realtà non c'è stato un palco iOS 14 è stato comunque un po' scarno perché comunque le performance sono già molto ben stabilizzate e in un modo o nell'altro fanno bene al prodotto che cresce perché comunque da una certa prospettiva iOS 14 è il sistema operativo di cui siamo se vogliamo consapevoli di ciò che si aspetta è stato un anno S lo sapevamo tutti quindi è una sorta di aggiornamento di metà corso un po' uno Snow Leopard però d'altro canto ok mi butti fuori widget mi butti fuori App Library e anche lì solo su iPhone e non su iPad e spero sia una mancanza solamente di iOS 14 Beta 1 che ricordiamo è solamente disponibile al momento per gli sviluppatori in sostanza credo lunedì prossimo uscirà la Beta 2 e in contemporanea la prima Public Beta Beta 2 per gli sviluppatori e la prima Public Beta o comunque nei giorni successivi comunque gira bene però comunque mi sarei aspettato qualcosa di più ovviamente quando ti interfacci con un'azienda come Apple ti interfacci comunque anche con una serie di personaggi che poi ti spoilerano praticamente l'evento però comunque quando una serie di persone hanno comunque congruenze verso una parte comune poi ti lamenti da un certo punto di vista quando alcune novità non vengono presentate sul palco e un pochino ovviamente tutto questo si è si è fatto sentire perché comunque un'azienda come Apple se vogliamo dovrebbe iniziare a far intraprendere se vogliamo un percorso un po' un po' più coeso tra le varie piattaforme che ha il Mac ovviamente è stato il centro del palco perché comunque una rivoluzione come Apple Silicon arriva una volta ogni 15 anni appunto 10 15 anni fa appunto c'è stato se vogliamo il primo approccio a questa Apple dell'epoca futuro con una certa una certa forza quindi ci ricordiamo tutti il struco l'è abbassata per far vedere che arrivavano i processori Intel c'è stato comunque la transizione con Apple Silicon Apple Silicon che poi non ha portato se vogliamo grandi novità anche da questo punto di vista ha portato comunque un sistema operativo più completo comunque un'uniformità grafica dell'ecosistema e Apple ci fa capire veramente cos'è un ecosistema è stato se vogliamo l'ultima puntata prima della WWDC dove ho messo ovviamente in discussione Siri però da questo punto di vista abbiamo comunque adesso una continuità grafica che va da iOS ad iPadOS passando ovviamente per macOS Big Sur avremo sicuramente e lo capiremo secondo me tra settembre dicembre probabilmente e la prima parte del 2021 anche una sorta di continuità tra il design dei prodotti il centro c'era sicuramente il nuovo iPad Pro presentato oramai il 30 ottobre del 2018 per cui comunque qualcosa che per tante persone oramai è una consuetudine però comunque abbiamo una certa se vogliamo prevalenza di rumors per cui io mi aspetto che per esempio anche anche ovviamente iPhone 12 Pro sarà così i dummies che stanno uscendo praticamente ci portano a capire che il vero e proprio fulcro del cambiamento tra le altre cose sarà anche un design che ritorna quello dell'iPhone 4 e successivi con in realtà poi tutta una questione più globale legata anche a quello che Sony Dixon diceva pochi giorni prima dell'evento della scorsa settimana con anche il design dell'iMac che praticamente si rifà allo stesso design di iPad Pro per cui anche lì Apple secondo me vuole dare una continuità tra i vari dispositivi non credo avremo un prodotto molto simile per quanto riguarda ad esempio l'Apple Watch per cui non mi aspetto un Apple Watch con i bordi curvi cioè con i bordi squadrati mi aspetto ancora magari una evoluzione del design attuale non mi aspetto grandi cose non mi aspetto l'Apple Watch rotondo però comunque per quanto riguarda poi il proseguo della line up secondo me lo stesso design magari con un design più industriale fatto è vero di curve perché comunque io davanti a me ho il MacBook Pro con gli angoli dello schermo taglienti gli angoli a 90 gradi a casa ho un iPod Touch che ha anche lì gli angoli 90 gradi con se vogliamo poi quello che in sostanza è anche il design dell'interfaccia con un dock molto più simile a quello dei vecchi iOS rispetto in realtà a quello che poi è stato il design che iOS ha avuto negli iPhone dal 2017 in poi con una sorta di dock ripreso ovviamente da quello di iPad Pro prima che adesso sempre per il discorso della continuità di prima avremo anche su Mac cosa non mi è piaciuto tra le altre cose non mi è piaciuto principalmente il comportamento che Apple ha avuto con alcune funzioni che sono venute fuori in secondo piano in primis il widget batterie widget batterie che va a comprendere più di due pallini perché comunque abbiamo su iPad ma anche credo su iPhone la possibilità di avere fino a credo 4 pallini ipoteticamente anche 6 magari anche 8 andando se vogliamo a prendere il widget più grande visto che comunque Apple inizia a far comunicare maggiormente i dispositivi e quindi per esempio se io ho un Apple Watch e si ricarica al 100% ho la possibilità di avere la notifica su iPhone ovviamente questo poi mi porta ad avere una maggior ricchezza della coesione nell'ecosistema mi sarei aspettato comunque una maggior coesione con il resto perché se io ipoteticamente sono al Mac ho l'iPhone in camera appoggiato sulla sulla ricarica wireless oppure sono da iPad e ho l'Apple Watch in carica in stanza e magari sono con l'iPad Pro in giardino adesso che fa caldo perché non avere tutte le notifiche con se vogliamo anche comunque la ricarica smart ricarica smart che oramai è arrivata dappertutto ricarica smart che oramai abbiamo su tutti i dispositivi tranne il nostro amatissimo iPad che praticamente Apple in qualche modo prevede già a che ora si ricarica la batteria quindi io perché non posso avere dappertutto tutte le batterie magari visto che Apple ci invita con il nuovo Apple Watch sicuramente con qualche funzione in più ma anche già con gli Apple Watch dal serie 3 in poi a monitorare il sonno attraverso appunto l'Apple Watch perché non mettere un widget batteria in praticamente nel control center per cui io scorro dal basso verso l'alto schiaccio sulla batteria e in questo momento vedo che sul mio Apple Watch ho il 68% di batteria residua davanti a me appunto ho il Mac di fianco a me ho l'iPad dietro di me ho l'iPhone perché io non posso vedere ad esempio sull'Apple Watch la percentuale di ricarica del mio del mio iPhone è vero è qualcosa che magari non mi aiuta però comunque è una funzione che sul widget e i widget stanno diventando sempre più importanti per Apple perché comunque anche lì è una coesione che vuole maggiormente che Apple si possa interfacciare tra i vari prodotti perché lo stesso widget ce l'abbiamo su iPad su iPhone e su Mac perché non mi metti un widget batteria più completo lo fa Batteries di Guillermo Rambo perché non me lo fai ad esempio anche tu cara Apple che hai la possibilità di controllare al meglio tutto il mondo legato ai dispositivi e poi ovviamente quando parli di Apple Watch parli di monitoraggio del sonno e veramente quando vedi i video di tutto il popolino che se vogliamo prova la beta di WatchOS 7 che va bene Apple spazierà tra i vari modelli che sono presenti sull'App Store per cui da una parte Sleep Plus Plus oppure Autosleep che è l'applicazione che utilizzo personalmente io ho una completezza di informazione che non è assolutamente se vogliamo tranquilla cioè non è semplicemente oggi hai dormito andiamo a recuperarlo apro Autosleep non è che hai dormito 7 ore e 32 minuti cosa assolutamente non vera però credo di dover controllare l'applicazione però io per esempio vedo il il modus operandi di quest'app che mi va ad integrare maggiormente le informazioni quindi per esempio ho la banca del sonno per cui io negli ultimi 7 giorni ho dormito in media per 4 per 6 ore e 48 minuti cosa che credo farà anche l'applicazione di Apple però per esempio poi ho i tre anelli ovviamente replicati dai tre anelli di fitness il nuovo nome dell'app attività e ho la qualità del sonno in questo caso 4 ore 42 minuti ho un'ora e trentatere di sonno profondo e ho 58 battiti di media scorro ancora e ho poi il tempo sveglio stanotte è stato sveglio mezz'ora ho una valutazione dell'88% di sonno non solo ho la possibilità di far adattare l'ora in cui io vado a letto perché comunque diciamo c'è c'è una continuità legata comunque al mondo anche dell'intelligenza artificiale e quindi poi tutto questo con una serie di funzioni che possono essere utilizzate in mille modi da shortcuts a night shift al non disturbare eccetera eccetera intanto saluto il buon Lorenzo che è arrivato in chat ecco è una questione più complessa di questa Apple fa qualcosa che poi sicuramente migliorerà l'abbiamo già visto diverse volte però onestamente non so se utilizzerò la funzione sicuramente a settembre quando uscirà WatchOS 7 lo installerò sul serie 4 e quindi il mio serie 2 rimarrà se vogliamo un pochino meno al mio polso perché adesso è l'Apple Watch che utilizzo per dormire e quindi ci sarà comunque un qualcosa di più interessante da vedere cioè guardando le foto magari foto che faccio dopo la doccia ho sempre quel quadrato molto più squadrato al polso e quindi foto a cappatoio Apple Watch al polso è comunque un qualcosa che che comunque mi mancherà perché non so quanto lo userò magari poi arriverà un fratellino maggiore arriverà un serie 6 vedremo sarà sicuramente un qualcosa che che vorrei che vorrei vedere mi sembra che non non ci sia un qualcosa di più coeso Apple mi sembra che cioè alla fine l'ecosistema se vogliamo è un po' una una questione di frequenze come se tante piccole grandi parti della della ss Apple devono poi essere messe se vogliamo proprio in in competizione tra di loro per poi unirsi quindi magari c'è il team del design che chiede una cosa c'è il team d'altro canto che ribalta ribalta un pochino la situazione e e quindi poi alla fine siamo noi utenti ad essere ad essere scontenti e e bisogna vedere poi la la release finale ecco Apple Watch va bene mi è stato presentato la funzione sonno così però comunque c'è un qualcosa che che non mi lega se vogliamo a qualcosa all'interno ne parlavo anche con Alberto poi nel nel pre-evento oramai dieci giorni fa mi sembra che cioè io sarei il primo a disinstallare l'applicazione di Autosleep è un'applicazione che oramai utilizzo da tempo in memore però comunque Apple ha innanzitutto secondo me la lungimiranza di riuscire a a capire il modo in cui altre applicazioni funzionano banalmente a quelli di Apple Watch a quelli del reparto Watch dici ok tu ti installi Sleep++ tu ti installi Autosleep tu ti installi Pillow non mi ricordo come si chiama le provate settimana prossima riunione cosa ti è piaciuto di quest'app cosa ti è piaciuto di quest'app cosa ti è piaciuto di quest'app facciamo un pochino un unione di intenti e facciamo poi comunque un qualcosa che funziona semplicemente ma funziona meglio semplicemente capiamo quello che Apple ha presentato e non ha presentato in altri ambiti mi ricordo quando Apple ha presentato Apple Watch gli smartwatch c'erano di già però poi è riuscito a fare l'Apple Watch d'altro canto quando pensiamo in realtà agli auricolari senza fili gli altri auricolari sono quelli gli airpods solo hanno già praticamente surclassato in termini di vendite il marchio Beats che esiste credo da troppo tempo e quindi poi ci sta anche che un'azienda come Apple voglia in un modo o nell'altro cercare di cambiare e di portare a suo lavoro e poi dell'hardware mancato parleremo sicuramente in una delle prossime puntate per concludere cosa non mi è piaciuto non mi è piaciuto che Apple non abbia parlato dei servizi i servizi stanno diventando sempre più importanti è un qualcosa degli ultimi giorni New York Times che sta lasciando il mondo di anzi ha lasciato Apple News Plus per cui le stories del New York Times quindi gli articoli a pagamento tipo Rep per Repubblica per cui un certo un certo modello di business perché ci sono principalmente tre modelli di business il primo è quello degli abbonamenti tipo il post per cui la possibilità di avere qualche piccolo upgrade tipo tienivi bordone tipo la la newsletter tipo evening post che ogni sera alle 18 ti fa una sorta di ricapitolo delle puntate poi c'è il modello tipo corriere della sera per cui il classico paywall posso leggere al massimo 10 articoli al mese e poi ho la possibilità di leggere tutti gli articoli che voglio e poi c'è il modello rap per cui il sito con gli approfondimenti con le notizie più importanti che è quella appunto di di Repubblica New York Times stories funziona praticamente allo stesso modo e News Plus secondo me è un qualcosa che io vorrei vedere in Italia perché il mondo dell'informazione sta diventando sempre più importante i podcast stanno diventando sempre più importanti secondo me nel giro non di tanto tempo ma nel giro di 3, 4, 5 anni il mondo dell'approfondimento sarà tanto podcast quanto notizie lette su internet o sui giornali ci sono tanti giornali tanti quotidiani che stanno rivaltando proprio le redazioni la stampa con sotto la direzione di Giannini settimana scorsa credo o due settimane fa ha fatto un ulteriore passo di questo tempo per cui il quotidiano di Torino che già aveva sotto la guida di Maurizio Molinari fatto un grande passo verso il Digital First sta affiancando comunque al modello stampato alla carta un po' se vogliamo di persone con cui spingere il sito per cui c'è un qualcosa che onestamente mi sarebbe piaciuto vedere però comunque poi Apple non è solo quello grandi rimpianti è uscita in questi giorni la notizia in queste ultime ore anzi in realtà la notizia sempre a guida di o meglio non a guida a firma di di Bloomberg in cui addirittura alcuni giochi Apple Arcade Apple ha deciso di tagliare i ponti con alcune produzioni in in arrivo Apple secondo quanto riporta l'azienda ha già investito in una cifra tra gli 1 e i 5 milioni di dollari per la produzione di di giochi e e quindi la cosa che che mi manca di più è comunque vedere articoli non solo in cui Apple porta la consistenza che che è quella comunque di dire ok evento di marzo vengono presentati i servizi quest'anno ok l'evento di marzo non c'è per cui Apple avrebbe comunque dato una spinta di più a i vari Apple Arcade Apple News Plus Apple TV Plus di cui parleremo tra poco Apple Music che va bene sta facendo secondo me degli ottimi numeri ma la sfida Spotify per alcune cose è diversamente intrigante secondo me quindi un Apple molto di più seduta sugli allori rispetto in realtà ad un mercato in in continua in continua evoluzione in continua rivoluzione perché comunque il mondo per alcuni versi lo stesso per altri sta cambiando il mondo sarà molto di più portato ad un ad un mondo in cui l'Apple Watch e Apple Glass saranno il futuro e quindi sicuramente un iPhone un iPad un Mac secondo me di qui a 5 anni saranno presenti sulla scrivania però l'Apple Glass il modo in cui gli Airpods stanno diventando sempre più parte dell'ecosistema è un qualcosa che Apple deve tenere presente e va benissimo la possibilità di scrollare tra le canzoni tra Apple Music va benissimo il redesign di Apple Music su iPad va benissimo la possibilità di avere una sezione molto più portata ad un'integrazione se vogliamo con i propri ascolti però comunque io mi sarei aspettato veramente un qualcosa in più mi sarei aspettato veramente le mostre che alcuni pensavano potesse Apple dare al mondo dei podcast mondo che nel 2020 sta diventando una realtà anche qui in Italia che sicuramente non siamo il mercato in cui i podcast regnano in America ci sono alcune persone che vivono di podcast in Italia per come ci siano realtà decisamente affermate vedi digitali in cui il segmento dei produttori esecutivi prende 4-5 minuti per il resto sì Easy Apple anche lì è una realtà in cui comunque ci sono delle delle donazioni per supportare il progetto però comunque il mondo degli sponsor è un mondo molto molto lasco e quindi mi sarebbe piaciuto che Apple desse la possibilità non di monetizzare perché cioè sì anche di monetizzare perché se facessi un eurino in più con con ietec ma anche con un ipad guy ma anche con podcast decisamente più interessanti del mio ascolto una serie di podcast ve ne consiglierò ad agosto alcuni che che ho scoperto ultimamente e che e che fanno veramente un pochino secondo me pensare anche poi a quella che è la la produttività proprio della gente che accende un microfono davanti alla bocca però comunque in sostanza c'è veramente qualcosa che Apple deve capire e poi concludendo l'ho voluto tenere come ultimo e mi ricollego al commento del di Lorenzo in chat che poi va a riguardare in realtà il il mondo della della WWDC e giustamente Lorenzo dice io mi aspettavo anche qualche funzione su iCloud e soprattutto un nuovo piano base con più giga esatto io ho visto veramente tanta 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 desolazione da questo punto di vista perché iCloud non credo nemmeno sia stato mai nominato ultimamente stava diventando un punto ancora più centrale perché comunque è non so se è la Apple del futuro una Apple basata sul cloud però comunque io nel 2020 in cui abbiamo connessioni ultraveloci in cui il 5G diventerà una realtà sempre più affermata non trovo comunque una sorta di punto nuovo in cui veramente la gente deve sperare che Apple faccia qualcosa ad esempio io mi sto riapprocciando oramai da circa un annetto al mondo dei Mac la possibilità di non avere ancora il backup su iCloud è un qualcosa che mi riempie di tristezza di tristezza immonda cioè credo che se Apple dovesse rilasciare App Library su Mac cosa che ovviamente mi sono mi sono lamentato diciamo così nella nella puntata di lunedì di un iPad guy sarebbe magari il mio prossimo la mia prossima crociata contro copertino perché ci sono Mac che hanno hard disk più piccoli degli iPhone più grandi magari c'è gente con iPhone da 512 giga con iPad da 1 tera che possono fare loro appunto il backup su iCloud vuoi per esempio la migrazione di architettura tra Intel e ARM con Big Sur da questo punto di vista che fa passi in avanti verso un futuro coeso sicuramente tra le piattaforme non so se in realtà tra ipoteticamente 7 anni perché comunque Apple ha detto che nei prossimi due anni usciranno ulteriori Mac con processori Intel tra secondo me la fine del 2022 l'inizio del 2023 le principali piattaforme tutti i computer saranno basati su Intel cioè su processori Apple Silicon quindi processori che in teoria dovrebbero essere derivati dai sistema una chip che abbiamo su iPhone e iPad ecco mi piacerebbe un'azienda che solitamente porta comunque un qualcosa visto che ripeto c'è stata una coesione di design c'è stata una coesione di intenti con la piattaforma Catalista l'anno scorso con messaggi che finalmente porta gli effetti le icone sono le stesse perché non mi porti le stesse funzioni per iCloud è veramente un qualcosa che che mi manca così come un trailer solo di Apple TV Plus oramai non mi basta Apple TV Plus deve rimanere una realtà consolidata deve rimanere comunque un qualcosa che lega ancora di più l'utente alla piattaforma i servizi sono il nuovo futuro perché ci saranno persone come me come Lorenzo come tanti di voi che stanno sicuramente sbavando sui prossimi prodotti io onestamente non vedo l'ora rispettivamente lì iPhone 12 Pro iPad 12 il prossimo anno con il display mini led vorrei poter vedere un un MacBook Pro da 14 pollici con processore Apple Silicon e display mini led però comunque ci sono persone che con i loro iPhone 6s da che quest'anno compiono credo 5 anni mia nonna ha un iPad Air 2 che si potrà aggiornare ad iPadOS 14 iPad che oramai ha quasi 6 anni che magari sono interessati a farsi un abbonamento ovviamente da un iPad Air 2 ad un iPad Pro 2021 mini led Apple A14X 5G ce ne va ci sono le persone che hanno ultimamente comprato dei dispositivi di altre facce per cui degli iPad normali degli iPad Air con per esempio lo stesso iPad Air che si rumoreggia potrà uscire nella seconda parte dell'anno con un design molto più simile a quello di iPad Pro con magari qualche novità in meno a quelle persone devi dare i servizi perché se no andranno ovunque e proprio oggi con con Alberto mi lamentavo in realtà di quanto anche per esempio una Netflix sta facendo sempre di più uscire meno roba va bene ci sono stati gli stop ai set me ne rendo conto però comunque altrove la roba esce sto vedendo tante serie su Sky ieri è uscito il trailer di una nuova serie di una nuova produzione originale Sky che partirà a settembre con con Paola Cortellesi andatelo a recuperare si chiama Petra sto aspettando alcune serie addirittura su Amazon Prime Video è vero sto aspettando anche Cursed sto aspettando la seconda stagione di Umbrella Academy sto aspettando veramente tanta tanta roba però comunque Apple deve avere un qualcosa in più perché va bene l'ultimo se vogliamo l'ultimo baluardo è stato Defending Jacob però ragazzi mi mancano i tempi di The Morning Show sì e gli altri che va bene sono stati loro i precursori comunque di una Apple molto puntati servizi però veramente la realtà di questo di questa WWDC è che comunque un qualcosa è mancato per cui direi che il ragionamento sull'evento può concludersi qua mancano ancora quattro puntate saranno puntate in cui parleremo ancora sicuramente di Apple le prossime due parleranno ancora di qualcosa che ci ha legato alla WWDC saranno più concetti astratti e molto meno concetti legati in realtà alla presentazione poi andiamo su verso un'estate in cui i temi saranno un pochino più leggeri perché poi ragazzi a settembre a settembre si parte perché metà settembre 16 settembre onestamente io mi aspetto già la presentazione dell'iPhone con la commercializzazione entro la fine cioè io tra il 16 e il 22 forse tra il 15 e il 22 mi aspetto la presentazione del dispositivo con il rilascio magari di iOS verso fine mese e il primo venerdì massimo secondo di ottobre la presentazione cioè l'uscita del del telefono poi ovviamente ci sarà l'evento di ottobre probabilmente con la presentazione dei primi modelli ovviamente poi c'è anche ciò che non riguarda Apple non vedo l'ora di coprire Pixel non vedo l'ora di coprire Note Note 20 non vedo l'ora veramente di capire la tecnologia verso che strada andrà perché alla fine questa è la nostra passione per cui vi ringrazio per l'ascolto ringrazio Lorenzo in chat ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato in diretta vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata potete andare a recuperare sul feed video che trovate su spreaker.com oppure sulle piattaforme di podcasting e io vi aspetto settimana prossima alle 17 con una nuova puntata di Etec ciao grazie a tutti